Centinaia di fedeli si sono ritrovati anche nel giorno di Fioragosto a Isola del Gran Sasso per far visita al Santuario di San Gabriele della Dolorata. Il luogo di culto, noto per i suoi pellegrinaggi, ha richiamato anche quest'anno tantissimi fedeli. Al Santuario di San Gabriele, come noto, si celebra ogni anno la Festa del Pellegrino, ideata ed organizzata dal passionista Padre Domenico Lanci, che intende rievocare annualmente l'arrivo di San Gabriele a Isola del Gran Sasso il 10 luglio del 1859. Quest'anno si è celebrato il 160esimo anniversario. Fino a metà del secolo scorso, i pellegrinaggi a piedi al Santuario di San Gabriele erano molto diffusi, un'usanza che in questi ultimi anni sta tornando pian piano a rinvigorirsi. Al Santuario di Isola del Gran Sasso, ogni anno giungono fedeli da ogni parte del mondo per rendere omaggio al Santo le cui spoglie sono custodite all'interno di un'urna. Il Santuario inoltre è una meta di pellegrinaggio molto cara ai giovani, due gli appuntamenti principali, uno nel mese di marzo, a 100 giorni dall'esame di Stato per prendere il diploma di scuola media superiore, in cui migliaia di studenti, provenienti dall'Abruzzo e dalle Marche, arrivano al Santuario per pregare per un buon esito della prova di maturità e nel quale vengono benedette le penne. Ed un altro nell'ultima settimana d'agosto, in cui viene celebrata la tendopoli durante la quale centinaia di giovani, ma anche i meno giovani, si accampano per cinque giorni dando vita ad un meeting religioso. Tra i visitatori del Santuario, Papa Giovanni Paolo II e l'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Joseph Ratzinger, il ricordo di queste visite è testimoniato dalle foto esposte nel nuovo Santuario.